Ciao, il mio nome è Mauro Nonis. Sono responsabile del gruppo di calcio e ventilazione dell'ingegneria. Siamo in charge di tutti gli aspetti di calcio con l'acqua e della ventilazione di ogni sistema o di ogni premises che sono relato all'acceleratore e all'experimentazione. Il tipo di lavoro qui è molto difficile da un punto di vista tecnico perché dobbiamo assurare una alta relazione dei nostri sistemi all'acceleratore e all'acceleratore corretto. Abbiamo lavorato con installazioni di grandi scale che non sono così comuni. Il numero di sistemi è molto grande. Il fine-tuning dei parametri lavoratori è molto difficile perché dobbiamo proporre un'acceleratore corretto e un'acceleratore corretto. È molto interessante lavorare qui a CERN. È un'ambiente meraviglioso. È molto motivante. È un piacere di sapere tutte le persone che lavorano qui. è un piacere di ciò che avvicinati. Quindi è proprio un'acceleratore. Ciò di riguardo che anche si siaוס un'acceleratore corretto.